La prossima canzone la conoscono in pochi, si chiama 1 aprile 1965, che è ovviamente la data di una lettera, è precisamente di una lettera dell'ultima lettera che scrisse i genitori, il noto guerrigliero Ernesto De Vara, metto C. Ora, io non pendo molto, è stato un eroe nella liberazione del suo popolo, io non pendo molto da quella parte perché l'uso della violenza dà sempre un po' a ineramento. Io non sono un pacifista, ma penso di essere un combattente per una cosa, che sembra un paradosso, ma non noi. Ora, che cosa succede? Che qualche anno fa il padre di Ernesto De Vara pubblicò, resa pubblica, resa pubblica la lettera che il figlio gli aveva mandato, come a Dio. Ora, io non ci credo, cioè, se sia possibile, che un uomo con quella vita abbia un tale amore per la sua famiglia e per i suoi, e per i suoi famigliari. E allora mi è venuto in mente di farla una canzone, primo aprile 1960. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 Escriviti per una volta ancora, riprendo il mio cammino. Tinanina mia, tinanina mia, per una volta ancora, riprendo il mio cammino. Pare da molto tempo non scrivere più. Gli anni sono passati, ma io non sono cambiato. Forse qualcuno potrà chiamarmi avventuriero, fino alla fine troppo dietro le mille verità. Tinanina, tinanina mia, fino alla fine troppo dietro le mille verità. Pare da molto tempo non scrivere più. La morte non l'ho mai cercata, ma questa volta forse verrà. Vorrei farvi capire che io vi ho molto amato. Per voi non era facile, ma oggi credetemi. Parla da molto tempo non scrivere più. Mi sento un po' così. E io vi ho molto amato. Mi so staranno la mia vovola. Abbraccio tutti voi. Un bacio tutti voi. E ricordatevi di me. E di me. C'è giù. Ricordatevi di me e Dio ci riuscirò E Dio ci riuscirò